Federer all'inizio degli US Open no ci sono vado eh uno vado ciao a tutti ragazzi che viene chiamata? quella bella ciao a tutti ragazzi questa mattina Federer da qualche giorno no Federer da qualche giorno ha fatto una in ambito della nutrizione o del benessere spiego in maniera un po' complicata all'interno del all'interno dei miei canali social e media all'interno dei miei appunto informazioni di 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 riguardo riguardanti questi temi buongiorno 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 ragazzi di 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 o su Facebook, seguimi sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo, seguimi sulla mia pagina Facebook o sul mio profilo, occupandomi di nutrizione e di lifestyle voglio costantemente iniziare a pubblicare, no, occupandomi di nutrizione e di lifestyle pubblicherò regolarmente occupandomi di nutrizione